Prima di passare all'ultima fase di questo incontro io farei la stessa domanda a tutti se avrete voglia di rispondere. La domanda riguarda, partendo ovviamente dalle esperienze che ci avete raccontato sia a livello della pubblica amministrazione sia a livello delle singole imprese, qual è l'aspirazione, il prossimo passo della trasformazione digitale e qual è il limite più grosso contro il quale siete scontrati? Perché queste due cose mi sembra che raccontino entrambi gli aspetti che sono insiti all'interno della trasformazione digitale, vale a dire le difficoltà di cambiamento e le grandi opportunità. Allora magari partiamo da te Antonella ma... Grazie, non facciamo il giro inverso visto la difficoltà della domanda. Allora, l'aspirazione più grande ovviamente essendo una pubblica amministrazione è quella di svolgere il nostro ruolo a pieno, cioè noi abbiamo una sfida che tocca direttamente lo sviluppo del territorio e i diritti dei cittadini, pensiamo soltanto al campo della salute quanto è importante e quanto è fondamentale il digitale per risparmiare e rendere più efficaci i servizi ai cittadini, per cui io direi comunque questo, cioè riuscire a dare ai cittadini e agli altri attori territoriali dei servizi che il digitale può senza dubbio semplificare, ottimizzare, efficientare e farci risparmiare. Apro una piccolissima parentesi, pensiamo all'utilizzo delle tecnologie digitali, dei dati nel settore della prevenzione di tutti gli eventi naturali che ci hanno riguardato, che sono sempre meno emergenze e sempre più purtroppo situazioni in cui ci troviamo ad avere a che fare. L'utilizzo di droni, dei dati per la prevenzione degli incendi, del controllo territoriale, cioè pensiamo soltanto a questa sfera quanto si può fare. Il limite più grosso contro cui ci siamo scontrati, ahimè, è quello culturale. È quello culturale, cioè sicuramente è anche comprensibile perché stanno succedendo tantissime cose insieme e dicevo poi ci sono altri fattori che adesso si starebbero per sbloccare con la possibilità di assumere delle nuove persone nell'EPA, però le pubbliche amministrazioni sono in un ambiente complesso dove l'età media è molto elevata, per cui sicuramente il maggior limite è stato questo. Massimiliano. No, come volete. Allora, l'aspirazione come cittadino è che tutta l'innovazione che stiamo facendo sia trasparente. Non a caso sei responsabile della sezione, l'ho visto sul sito, la sezione è trasparente. Quindi, no, no, diciamo che l'obiettivo è quello che alla fine tutto quello che noi facciamo per innovare la pubblica amministrazione si traduca poi in servizi utili al cittadino che non necessariamente hanno un risvolto digitale, ma vanno a coprire le esigenze, dei fabbisogni che tutti quanti hanno nelle diverse età della vita. Questo lo dico da informatico, quindi è l'innovazione migliore. Agid, ovviamente, essendo una pubblica amministrazione, per quanto atipica, non ce la fa a essere un posto grigio dove lavorano dei tecnologi o dei burocrati. Anche noi ci scontriamo con tutti i problemi che ha la pubblica amministrazione in Italia, noi abbiamo qualche problema in più, perché ovviamente ci sono delle competenze che nella pubblica amministrazione non sono disponibili e quindi dobbiamo recuperarle in qualche modo sul mercato, abbiamo un gruppo di giovani collaboratori molto dinamici e il fermento che c'è nei corridoi di Agid cerchiamo anche di trasportarlo fuori nelle amministrazioni che hanno contatto con noi e quindi questa è la soluzione che abbiamo trovato per il momento. Rispondo io, spezio il giro. Allora, per quanto riguarda la prossima sfida, sicuramente è quella di abbiamo lavorato molto sull'interno, vorremmo offrire attraverso i nostri canali digitali dei servizi che facciano veramente la differenza per il passeggero digitale. Quindi una serie di vantaggi, code più veloci, servizi di ristorazione al volo, o magari anche servizi di mobilità avanzata, prenotabili in anticipo. Non dico la barriera perché sinceramente barriere non ne vedo, ma la difficoltà è che per fare servizi veramente rilevanti bisogna creare un ecosistema, non so, per essere un servizio rilevante se io parto da Roma e vado a Milano ci deve essere qualcosa, magari all'arrivo a Milano che io ho gestito come ecosistema da Roma. Queste sono cose a cui stiamo pensando, ma chiaramente per dargli rilevanza bisogna andare almeno su scala nazionale, servizi di mobilità e così via. E questa è la sfida più grande, insomma, sicuramente. Io direi quali sono i benefici attesi, non solo per quanto riguarda l'attività di ViaSat, ma più in generale di questa trasformazione digitale che sta arrivando. sono fondamentalmente tre, cioè la sicurezza delle persone, sicuramente tutto ciò può andare nella direzione di una maggiore sicurezza delle persone, un'ottimizzazione dei costi, questo sia per il privato che per le imprese, e la riduzione dei consumi, che è un altro tema che chiaramente può essere molto importante. Quindi io direi che questi sono i tre fondamentali benefici al di là di, chiaramente con il tempo, avere sempre maggiore fruibilità di tutta quanta la tecnologia. Per quanto riguarda i più grandi limiti, ne vedo due. Uno, sicuramente quello culturale. In Italia non è facile, purtroppo ci sono ancora delle sacche molto, molto resistenti all'innovazione, a tutti i livelli e in tutti gli ambienti, in tutti i contesti. L'altro limite molto forte che io vedo, e lo vedo soprattutto guardando quello che tutti i giorni noi facciamo in ViaSat, è il fatto che manchi, per quanto riguarda l'innovazione tecnologica, manchi una regia a livello di paese, manchi una regia anche a livello di mercati. Per farmi comprendere faccio un esempio molto semplice. Il mercato assicurativo vuole la telematica e quindi i dispositivi satellitari perché fondamentalmente mira alla gestione del crash, quindi del sinistro, perché per loro è importante quello. e acquistano quelle caratteristiche e quelle funzionalità. Lo stesso dispositivo però se è richiesto da altri, faccio l'esempio di chi magari, società di noleggio a lungo termine, piuttosto che di concessionari auto, spinge invece per la diagnostica perché attraverso la diagnostica acquisiscono delle informazioni che possono essere utili o dal punto di vista commerciale o comunque nel caso delle società di noleggio per abbassare i costi della manutenzione soprattutto straordinaria. Se mi sposto ancora sul costruttore auto, il costruttore auto siccome è il problema del costo, è il problema di integrare il dispositivo all'interno del veicolo, dice bene che devo fare, c'è la legge per cui il licor europeo, bene dammi quello, punto, cioè del resto non me ne frega nulla. Quindi la domanda è, ma allora fra cinque anni ognuno di noi dovrà avere tre o quattro dispositivi nel proprio veicolo per poter avere tutti questi servizi? Benissimo Mariano ma anche tu? Possibilità? Sì, l'obiettivo principale adesso è riuscire a mettere in piedi una struttura per avere quanti più dati possibili, perché comunque anche un'azienda come Team ha delle fonti di dati importanti che in parte vengono esposte come nel caso della mappa di spostamento agli utenti, ma comunque è complicato da avere, è complicato lavorarci su. Chiaramente sommare un'analisi sulle conversazioni che sono online, il comportamento agli utenti più questo tipo di dati rende l'analisi ancora molto più interessante ed incisiva. Il problema, sono assolutamente d'accordo, culturale va risolto in qualche modo attraverso un'evangelizzazione dell'importanza del dato perché anche oggi molto spesso quando c'è un documento, comunque un dato anche molto chiaro, si fatica a prendere una decisione basandosi e fidandosi di quel dato, i manager sono spinti a fidarsi del proprio istinto che poi è quello che fa la differenza ma dare un occhio al dato può aiutare tanto.